Fasi della produzione dell'alluminio anodizzato Fasi per ottenere prodotti anodizzati Questo filmato ha lo scopo di illustrare le fasi necessarie per ottenere un prodotto anodizzato di qualità dall'arrivo del materiale grezzo ai controlli del prodotto finito e al suo imballaggio Le fasi sono le seguenti Richiesta del cliente Elaborazione del foglio di lavoro Pretrattamenti, finitura chimica o meccaniche Agganciatura dei pezzi Preparazione dei bagni Realizzazione del processo Sganciatura e controllo di qualità Imballaggio